Buonasera a tutti ragazzi, ho visto un nuovo video Allora, raga, vi ricordate la volta scorsa dove lei mi ha truccato? Lei mi ha truccato? Mi sta bruciando veramente tantissimo Lu, ti uccido dopo Quanti, quanti ero settimi hai messo? Tre Non lo so, mettimene sette la prossima volta Ecco raga, appunto, questo video qua dove lei mi ha truccato a me Però oggi io proverò a truccare lei, ok? Ehm, non so niente Ok Lu, mi devi aiutare Quindi, qua abbiamo tutti i trucchi Ho preso cose diverse Diverse, sì Ma da dove partiamo? Allora, questo qua è una cosa nuova, ha detto lei Sull'altro, scorso video non c'era Ma da dove partiamo Lu? Dai rossetti Eh, i rossetti La matita prima E' sempre prima Dove cazzo ho messo questo qua? Il contorno Abbassati Guardate che... Ok, questa qua Ok, ci siamo raga Ah, comunque se non avete ancora visto il video scorso Dove lei Dove mia sorella mi ha truccato Vi lascio in descrizione E anche a fine video Ok, proviamo A mettere qui ai contorni Giusto? Sì Vediamo Più o meno Vabbè, non va messo lì Scusa Eh sì, però sei andato un po' giù Eh, vabbè, lì sì, ho sbagliato È vero, è vero È un rossetto uomo Quindi Lu, questo cos'è? Un rossetto? Un rossetto Eh, rosso Meno rosso Più o meno Raga, sono in canottiera Dobbiamo cercare di stare attenti A non fare il desfo in camera Di non sporcarla Perché raga ho appena finito di pulire Per quello sono in canottiera Anche perché fa caldo Vabbè Quindi stiamo attenti, ok? Ok, vatti 5 Ok E... Ok, vai Lu Te lo provo a mettere Vediamo se riesco Ah, che è che sei figolo Guarda, te l'ho messo benissimo Te l'ho messo stra bene Maggio Dove è il tappo, Lu? Tappo, tappo Questo? No, basta lo senti, Lu Basta, basta Come basta? Quanti cazzo vuoi metterte ne? Due No, due No, no, no Dopo dai, facciamo un'altra cosa Allora Adesso Adesso Non so cosa Questa vuole fare, raga Ok, questo Che cazzo è, raga? Sembra un'altra cosa questa roba Eh, devi schiacciare qua Schiaccia qua Porca troia Guardate, raga Ma che cazzo Devi metterlo qua Eh, devo fare così e metterlo Sì Sai, getta Dei trucchi Aiuto, aiuto Dai, troppo Allora Le voilà Le voilà Abbiamo finito, raga Poi Lui Guarda Ancora? Eh, perché c'era ancora un po' di questo, Lu Sti cazzo di capelli, te li taglierai un giorno Guarda, guarda, guarda che quanti i capelli hanno Devi tagliateli Non voglio Che cazzo è sta roba? Stai più là Fai piano Che mi fai il disco in camera Mi metto qua Qua? Sì Cos'è? Eh, le guance Così? Sì È troppa Sembra una cacchina Sì, è vero Quello è vero Beh, è troppa Lu Secondo te No Mi metto ancora? Sì No, basta, basta Chiudi Chiudi Vero Di là Ah, sì, beh Facciamo Passo le guance Perché è prima di quello No, raga, sono un truccatore nato Eh, ma dal video non rende Però sono un truccatore nato, raga Cioè, voglio dire Poi, lui, che cazzo dobbiamo mettere Basta? Sì Come, no Porco, porco Che se tu te li strafanti adesso Ah Cos'è, cos'è, cos'è Quello che ti ha messo Quello che mi ha messo te Dove, dimmi dove si mette Non ti ricordo Eh, no che non mi ricordo Sotto lì Che non hai Cento no Guarda la videocamera Sotto lì 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 Grazie che l'hai sporcata Eh, scusa Lu Sai com'è, non trucco tutti i giorni Stavo miaggendo Non mi trucco come te Lu Stavo miaggendo Stavo miaggendo Eh, ma dopo ti farà male come me Dopo Lu, cosa devo mettere? Eh Non tante robe Lu C'è Quello che Oddio, oddio Questo qua Mettiamo Vai Mi pare piena mattita Non voglio dire Quelle grande Quella lì che Eh, che non lo so che Sì, lo so Chiudi Qua Sì Uuuh Raga Chiedi gli occhi Chiudi Vai Non serve che ti avvicini troppo Luna, no Se no copri tutto Beh, basta lo direi O c'è altro roba Questo cos'ha? Il rossetto quello di prima Questo qua dobbiamo mettere Sì Ok, basta Raga, io questo è quello che riesco a fare Ok, ne hai fatto qualcosa Porco, è vero Beh, Lu, che numero c'è? Che voto mi dai? Eh, qua c'è Da 1 a 10? Quanto mi dai? Fai vedere bene? Da 1 a 10 Vuoi una Schweppes? Solo io e te? Eh? Lu, guarda che sei carino però Vabbè, quanto mi dai, Lu? Da 1 a 10? Fatti vedere bene, fatti vedere bene 10 Come dici? Veramente? Cioè, qua sembra un po' bruttina Vabbè, lì l'ho fatto di merda Però I rossetti l'ho fatto bene Anche qua Sembra di aver fatto bene qua, vero Lu? Sì Adesso te ne vai a cavare, spero Con te? No, fai te Senta che l'hai truccato Brutta bassa Quando io ti ho truccato Io ti ho truccato Eh, vabbè Lu, ma io non so come fare Quindi gli farò per da solo Ok Eeeh, festa? Ok Mi sono arrivati tutti i messaggi Quindi, raga, spero che questo video ci sia piaciuto Mi raccomando un like e un commento Lu, non posso toccarti il culo? No Vabbè, iscrivetevi, commentate, lasciate un bacio Ciao, al prossimo Un video Eeeh 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 Eeeh